Musica Cosa ti è piaciuto di questo Taranto e cosa c'è da migliorare? Sicuramente queste sono partite dove bisogna sperimentare, bisogna provare cose diverse e oggi abbiamo provato qualcosina, marino basso a sinistra più per necessità onestamente però il ragazzo ha gamba e può coprire benissimo questo ruolo ovviamente c'è qualcosa che arriva a dire in fase di non possesso, in fase difensiva però è un ragazzo che si propone tanto, che ha qualità, che ha gamba, che ha personalità per coprire questo ruolo e mi è piaciuto, davanti era importante oggi inserire Luis per dare minuti e ha fatto abbastanza bene ovviamente ci vuole un po' più di tranquillità, questo è anche un campo stretto e c'è la percentuale di errore sicuramente un pochettino più alta, però non dobbiamo preoccuparci dell'errore ma pensare sempre a costruire, ad andare avanti e a pensare alla palla successiva sotto questo punto di vista dobbiamo un attimino migliorare dal punto di vista della tranquillità senza perdere la testa, siamo una squadra che vuole giocare a calcio e sappiamo benissimo che l'errore ci sta e dobbiamo migliorare, però i ragazzi hanno fatto un ottimo allenamento anche oggi e sono contento di questo Pretendo che si giochi sempre, quindi c'è possibilità di sbagliare, però è anche vero che oggi è un allenamento di giovedì subito dopo due giorni di lungo lavoro, di duro lavoro, dove anche ieri abbiamo fatto una doppia seduta quindi c'è poca lucidità nel giovedì e questo lo sappiamo benissimo quindi qualche palla, qualche errore l'abbiamo fatto e io cerco sempre la massima concentrazione quando poi sbagliamo qualcosina è ovvio che siamo lì attenti a fargli notare l'errore però i ragazzi sono eccezionali, lavorano benissimo e anche oggi l'hanno fatto